Ciao a tutti e bentornati su Best Cinema Trailer. Prima di iniziare ecco la risposta della volta precedente. Il film si intitolava Immaturi con Ricky Memphis, Luca Pizzarri e Barbara Bobolova. E adesso una nuova produzione americana, firmata dal grande Paul Thomas Anderson. Vizio di forma nelle sale del 26 febbraio. Se è una tranquilla serata sulla spiaggia e la tua ex all'improvviso sbucata dal nulla si presenta con una storia sul suo attuale fidanzato imprenditore immobiliare miliardario e la moglie di lui e l'amante di lei e un complotto per rapire il miliardario e rinchiuderlo in manicomio. Mi serve il tuo aiuto doc. Ti conviene guardare dall'altra parte. Ma se tu sei doc le cose potrebbero diventare un tantino bizzarre dopo. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. È sparito. Quindi dove potrei trovarlo? Tecnicamente è ebreo ma vuole essere nazista. E una ragazza non vuole avere delle difficoltà con quella gente. Ma è una foto in più da prestarmi. Beh forse te la passi meglio con i nazisti. Cavolo! Stai bene? Sto bene? Allora? Di solito siamo noi quelli che fanno le domande. E la vostra domanda è da che parte sto? Bella domanda. Risposta sbagliata. doc non sarà di certo un buonista ma ha fatto del bene. Buona fortuna doc. Pensate, questa pellicola ha ricevuto due nomination all'Oscar come migliore sceneggiatura originale e come migliori costumi. Qual è l'autore del romanzo da cui è stato tratto il film? La risposta come sempre nella prossima puntata. Ciao!